Buongiorno a tutti, grazie per essere qui, io sono Marina Sozzi, modererò l'incontro di oggi, prima di presentarvi i nostri ospiti voglio ringraziare Torino Spiritualità per questa bella opportunità e Fondazione Fabretti per aver sponsorizzato questo incontro. Vi presento i nostri due ospiti che sono alla mia destra Carlo Casalone, medico, teologo, Gesuita, ha fatto parte del Comitato Etico dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, dal 2013 è presidente della Fondazione Carlo Maria Martini, è docente di teologia morale alla Pontificia Università Gregoriana e dal 2017 è membro della Pontificia Accademia per la vita. Tra i suoi scritti ricordiamo Bioetica, esercizi di discernimento del 2022, questo che gentilmente mi ha regalato, molti articoli su civiltà cattolica che parlano dei temi che ci interessano e che riguardano questo incontro e poi di quest'anno Sapienza e profezia l'eredità intangibile di Carlo Maria Martini. Alla mia sinistra è Luciano Orsi, medico palliativista, è stato direttore della struttura complessa del Dipartimento di Cuore Palliative dell'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, è direttore della rivista italiana di cuore palliative e anche della comunicazione della Società Italiana delle cure palliative. Dal 2016 al 2020 è stato vicepresidente della Società Italiana di cure palliative e tra i suoi scritti ricordiamo quando tutto è dolore, cure palliative e sofferenza esistenziale alla fine della vita del 2017, dolore, parole per capire, ascoltare, capirsi del 2018 e per un dolore umano la sofferenza considerata da un punto di vista etico, medico e spirituale del 2020. Li ringraziamo tantissimo per aver accettato questo invito a essere qui con noi oggi. Vorrei iniziare dicendo una cosa, molto spesso i mass media tendono a ridurre il tema del fine vita all'alternativa soffrire o abbreviare la vita e quindi scegliere soluzioni come il suicidio assistito, l'eutanasia. Quello che io vorrei fare oggi con voi e con i nostri due ospiti è respingere un po' questa semplificazione, complessificare, ragionando per quanto possibile nella concretezza, quindi che cosa succede veramente al letto del malato, respingendo le convinzioni troppo ideologiche, proviamo a fare questo sforzo di concretezza. Per cui anche nell'affrontare il tema della autodeterminazione, tema centrale naturalmente quando si parla di fine della vita, mi piacerebbe che si pensasse all'autodeterminazione non come un diritto astratto ma come qualcosa che va accompagnato. Non tutte le persone sono capaci da sempre di autodeterminarsi e spesso nei momenti di difficoltà hanno bisogno di essere accompagnati a farlo. Proviamo a ragionare un po' in questi termini. Comincerei da un po' più lontano rispetto alla fine della vita, cioè quando sto bene, che cosa posso fare per tutelare quella che è la mia autodeterminazione? Noi abbiamo una legge che non tutti conoscono, che è la 219 del 2017, che parla di consenso informato, cioè del diritto che abbiamo a ricevere informazioni sul nostro stato di salute, parla di condivisione del percorso terapeutico e parla di disposizioni anticipate di trattamento, ossia di testamento biologico, per dirlo con un termine che tutti avete già sentito. Io vorrei chiedere ai nostri ospiti come la vedete l'opportunità che questa legge offre? Consigliate di compilare le disposizioni anticipate di trattamento e per farlo cosa occorre? Occorre chiedere aiuto a qualcuno? Si può fare da soli? Come la vedete? Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, la vedo molto bene la legge 219, anche perché ci abbiamo messo circa 25-30 anni per averla, quindi è stato un lungo percorso. È una legge importante perché è centrata sull'autodeterminazione del malato, quindi sulla possibilità e sul diritto che il malato ha di scegliere quali sono i trattamenti che gradisce e quali sono i trattamenti che non gradisce, quindi sul consenso informato, ma soprattutto è centrata sul fatto che un malato oggi può decidere per un futuro, in modo che anche se in futuro non ha più la capacità di decidere, la capacità di comprendere può vedere rispettati le proprie volontà, i propri desideri, i propri valori. E quindi la possibilità di fare un'espressione di volontà anticipata sia da sano, ecco queste sono le disposizioni anticipate di trattamento, il cosiddetto testamento biologico, sia da malato, ma questo è un altro strumento, la pianificazione e condivisa delle cure che si fa durante il percorso di malattia, risultano davvero fondamentali come strumenti per poter tutelare le volontà del malato. Per quanto riguarda le disposizioni anticipate di trattamento, il cosiddetto testamento biologico, che sicuramente è una delle più grandi novità di questa legge e che ci ha messo al pari con l'Europa e tutto il mondo avanzato, il consiglio è acquisire informazioni da parte di un medico di fiducia, insomma di una persona di un sanitario di fiducia, che spieghi quali sono le possibili cose che possono accadere più o meno all'improvviso a una persona e che lo mettono poi in una condizione in cui non può decidere. Se io oggi pomeriggio torno verso Milano e mi schianto in autostrada, posso avere una lesione del cervello o per carenze di ossigeno o per lesioni traumatiche e non riacquistare più le mie capacità di decidere. E quindi l'unico modo per poter fare in modo che la medicina mi tratti secondo i miei desideri è stato depositare qualche anno fa le direttive anticipate presso il comune, in modo che i curanti nel percorso di cura da stasera, nei prossimi giorni, mesi, settimane, abbiano un'idea di quali sono le mie volontà. Però per esprimerle in modo consapevole bisogna acquisire informazioni, consultarsi, condividere all'interno del nucleo delle relazioni affettive, chiamiamola famiglia per comodità, queste volontà, scegliere un fiduciario che sia una persona che voglia sostenere le mie decisioni e quindi mi rappresenterà quando io non sono più in grado di farlo e poi ovviamente dare un'ufficializzazione andando in comune, ufficio anagrafe che spedirà poi la coppia elettronica, la banca dati nazionale elettronica che permette in tre minuti e mezzo a un medico curante di accedere. Quindi è uno strumento importante da valorizzare, da diffondere, purtroppo è ancora poco noto perché non è stata fatta dopo l'opposizione legge una sufficiente campagna informativa, però è uno strumento delicato che va ponderato, che va condiviso e non è semplicemente un modulino con tante crocette da mettere per non mettere senza avere acquisito informazioni importanti. Mi sento di condividere quello che dice dottor Orsi, nel senso che la valutazione complessiva di questa legge che mi sentirei di dare è positiva proprio per quello che è stato detto, cioè nel dialogo tra medico e paziente l'unico modo per promuovere una logica di decisioni condivise nel pura diagnosi e trattamento delle malattie in cui ci si trova è essere informati e poter esprimere la propria volontà, le proprie preferenze. Scusate. E quindi questa legge cosa fa? Permette di farlo in modo anticipato quando il dialogo tra il medico e il paziente non è più in grado di tener conto di queste preferenze perché il paziente non è più in grado di parlare, di esprimersi, non è più competente come si dice. E quindi cosa si fa? Si cerca di prolungare il dialogo quando le condizioni cliniche non lo consentono più. E questa è la forza, l'interesse della legge e d'altra parte proprio questa è anche una delle debolezze perché noi sappiamo cosa succede nel consenso informato. Voi andate in ospedale, per ogni esame diagnostico o per ogni trattamento vi fanno firmare un foglio. Voi leggete quello che c'è scritto? No. Cosa vi dice l'infermiera in lì mentre aspettate? Firmi qua. Firmi qua. Quindi cosa che tende ad avvenire poi anche nonostante la maggiore complessità della situazione quando si fanno le sperimentazioni cliniche. Ancora più complessa la faccenda, non so se qualcuno di voi è stato mai arruolato come si dice in una prova clinical trial. Quindi questo è il consenso informato. Allora in una malattia o in una diagnosi in cui io sono competente, sono lì, lo faccio, scrivo, potrei leggere, troppo complicato da leggere, non lo faccio, quindi mi fido. Ecco qua il punto. Consenso più che essere informato è anzitutto affidato. Nel senso che io mi fido di quello che mi dicono. Allora, un consenso dato, come si dice talvolta, ora per allora, cioè ora che sono sano in salute, appunto in questo caso che si fa anche un po' fatica a dire se stasera torno, deragli al treno, ho un incidente tale per cui perdo la coscienza, vado in stato vegetativo, come si va a sapere quello che volevo se non scrivendolo? Sì, ma vai a spiegare a uno cos'è lo stato vegetativo. Già faccio fatica a spiegarti cos'è e perché ti faccio questa analisi del sangue, questo prelievo bioptico, perché se poi devo spiegarti cos'è lo stato vegetativo in modo tale che tu capisca e tu decida cosa preferisci in quella situazione, è una operazione altamente astratta. Quindi, e d'altra parte giustamente è l'unico modo che noi abbiamo per proseguire quel dialogo. Quindi io dico, bisogna essere consapevoli del limite della questione, non perché questo sia un bastone fra le ruote al riempimento del modulo delle disposizioni anticipate di trattamento. Nel libro che la dottoressa ha citato, noi poniamo alla fine proprio un modulo per fare le disposizioni anticipate di trattamento. Quindi lo sosteniamo. Però per sapere i limiti, la fragilità, il punto debole della cosa è gestirlo al meglio. Un altro limite che io trovo nella legge è che si tenta. In fondo questa legge non dice molto di nuovo nel codice deontologico, in altre leggi come quella sul trattamento del dolore. C'è quasi tutto. C'è tutto, non credo che ci sia niente di nuovo. Però lo sistematizza. E il rischio qual è? E se hai sentito bisogno di questa legge, perché le decisioni a fine vita sono sempre un po' delicate, complicate, esposte a tutta una serie di ambiguità. Però non possiamo pensare che queste tematiche possano essere risolte per legge. La legge ha sempre dentro di sé una componente generalistica. Come dicevano gli antichi, valet ut in pluribus. Cioè vale per lo più nelle situazioni. Ma poi le congiunture cliniche sono sempre un po' più complesse di quello che io avevo potuto prevedere nel mio modulo di disposizioni anticipate. Per cui a questa malattia se ne aggiunge un'altra. Per cui nel frattempo si è trovato un altro farmaco per fare un'altra cosa. E giustamente la legge cerca di dire va bene, ci sarà il tuo fiduciario, interessantissimo il nome, fiduciario. Tu ti fidi, ti fidi del medico, ti fidi di quello a cui hai consegnato il tuo mondo di valori perché lui possa decidere al tuo posto dialogando con i medici. Ecco, quindi anche questo è un punto. Classicamente questo era il luogo del ruolo della comunicazione tra medico e paziente, che consentiva di affrontare questi temi. L'idea di regolamentarlo per legge è una buona idea perché risponde a tutta una serie di esigenze e d'altra parte dobbiamo essere consapevoli che è anche qualche limite. Di nuovo, non per cancellare l'operazione ma per svolgerla con la massima consapevolezza. La legge non prevede che ci sia un medico di fiducia che controfirma il modulo. Per cui uno può farlo anche senza sentire nessuno, senza informarsi. Io ho degli amici notai che mi dicono guarda, è venuto uno che vuole essere curato solo con le erbe, cosa devo fare? E dico, vai, dunque dobbiamo... Aspetta, consigliagli di andare a parlare con un medico. Quindi succedono delle cose molto complicate, cioè molto anche strane. Quindi è molto auspicabile che ci si confronti con un medico. L'informazione è la base nella consapevolezza anche della laboriosità di questa operazione. La laboriosità fa sì che meno dell'1% della popolazione italiana abbia testato. C'è anche un grosso problema culturale. Forse non è solo la laboriosità, ma anche il modo di pensare la morte. Certamente. Infatti è un problema culturale, indubbiamente. Bene, invece facciamo un'altra ipotesi. Facciamo l'ipotesi che mi abbiano diagnosticato una malattia a prognosi in fausta. Come posso affrontare? Quali strumenti ho per affrontare questa situazione cioè del mio andare incontro alla fine della mia vita? Come posso ragionare? Come posso ragionare con i miei medici? Questa volta vuol cominciare a letto. Più brevemente, perché questo forse chi è dentro la pratica clinica può dire anche delle cose più vicine all'esperienza. Ma dal mio punto di vista questo è un po' il quadro della pianificazione anticipata, condivisa, delle cure previste dalla legge. Cioè quando sono dentro la situazione di malattia quell'aspetto di astrattezza che denunciavo precedentemente è un po' meno presente. Nel senso che essendo già malato già mi rendo conto di molte cose che avvengono nell'esperienza vissuta della malattia. E quindi con il medico, con l'equip curante, con i medici che mi seguono, il personale sanitario con cui sono in comunicazione e che mi accompagnano in questo percorso delle cure, si tratta di immaginare nel decorso della malattia da cui sono affetto cosa potrebbe succedere. E cosa potrebbe succedere anche nel caso in cui io non perda la capacità di capire o di decidere a proposito dei trattamenti da ricevere. in modo che quando, qualora questi eventi si realizzassero, i medici hanno già le informazioni e hanno già le indicazioni su quali sono le mie preferenze. Quindi la differenza qui è che cosa? Che sono già dentro la malattia ed essendo già dentro la malattia so già di che malattia si tratta, ne ho già un'iniziale esperienza e possiamo insieme ai medici immaginare quale potrebbe essere il decorso clinico. Allora, se succede questo, io preferisco questo qua. Se invece, quindi non fatemi questi trattamenti, non fatemi un trattamento di rianimazione intensiva oppure, ecco, oppure sì, fatemelo, vi faccio spiegare bene, eccetera. Quindi mi permette di dare delle indicazioni a partire già da una situazione che sto vivendo rispetto a delle congetture di possibili sviluppi che sono già più facilmente determinabili. Perfetto. Si può aggiungere che mentre per le date devo andare in comune e depositarle e poi se cambio idea, voglio modificarle, devo ritirare le vecchie e sostituirle quelle nuove. Quindi c'è una certa rigidità nelle date, nelle disposizioni anticipate di trattamento. Nella pianificazione e condivise le cure lo strumento è la cartella clinica. E quindi è uno strumento molto più flessibile, molto più raggiungibile e permette un aggiornamento via via che la malattia può progredire delle volontà del malato, una precisazione dei cambi di idee, delle conferme. E questo permette di individualizzare molto le scelte del singolo malato in un determinato contesto, permette all'equip curante di essere a conoscenza di quelli che sono i disegni del malato e soprattutto ha comunque un valore vincolante perché come le date sono vincolanti salvo qualche eccezione, così la pianificazione e condivise le cure è vincolante. Cioè se il malato oggi scrive che non vuole l'animazione cardiopulmonare, vuole morire a casa, quello che ha scritto oggi varrà in un prossimo ricovero, una prossima settimana se succede qualcosa che gli impedisce di decidere. È chiaro? Quindi quello che lui ha scritto oggi diventa vincolante per l'equip, salvo casi estremamente eccezionali. E anche nella pianificazione e condivise le cure c'è la possibilità di indicare una persona di fiducia che rappresenti il malato stesso nel momento in cui lui non è più in grado di comprendere, collochiare, relazionarsi e decidere. Quindi è uno strumento potente, flessibile e a portata di mano. E questo è un valore chiave per la gestione non tanto degli eventi acuti, un trauma piuttosto che, ma di percorsi di malattia come diceva Marina Sozzi in cui la prognosi comincia a diventare brutta, severa e le condizioni peggiorano. Allora lì ha un grande valore la pianificazione. È un altro strumento che è ancora poco noto, che deve diffondersi, che però può avvantaggiarsi dell'informatizzazione perché l'informatizzazione permette a queste volontà scritte in cartella di essere condiviso all'interno di un mondo di cura, che so io, di una rete locale di cura, come potrebbe essere, ne sono già esempi, a Bologna piuttosto che a Trento e quindi lì è già possibile per il medico di famiglia, per gli ospedalieri, per i chi domiciliari accedere alla conoscenza della pianificazione e questo aumenta la garanzia che le volontà di iscritte vengono rispettate. Bene, parliamo di cure palliative. quando sono indicate, per chi sono indicate, quali sono i punti di forza e gli eventuali limiti delle cure palliative e comincerei da te. Allora, cure palliative sono delle cure, quindi un'assistenza e una terapia fatta da equip di personale dedicato o comunque competente per togliere sofferenza un percorso avanzato e terminale di malattia sia di tipo oncologico sia di tipo non oncologico e si valgono per tutte le età dal prematuro fino al superanziano. L'obiettivo delle cure palliative non è né accorciare la vita né prolungare la vita ma quello di togliere sofferenza nel periodo residuo di vita, quindi puntare alla qualità di vita del malato finché possibile dalla famiglia e nelle fasi finali puntare alla qualità di morte. Considerando l'individuo nel suo intero quindi andando a trattare o prevenire sofferenze che non sono solo di tipo fisico che sono ampiamente trattabili oggi ma anche di tipo psicologico, sociale e spirituale perché è chiaro che avvicinandosi alle fasi finali della vita i bisogni psicologici sociali e spirituali emergono e sono comunque un compito d'equip quello di gestirle eventualmente ovviamente includendo supporti professionali specializzati come lo psicologo l'assistente spirituale e via dicendo. i punti di debolezza sono che non sono ancora sufficientemente diffuse nel nostro paese ci sono regioni messe meglio regioni messe peggio e ho anche all'interno delle stesse realtà locali non c'è un'omogeneità è vero che la situazione è grandemente migliorata rispetto a solo 10 15 20 anni fa ma ci sono ancora delle aree poco coperte ecco per chi è torinese la buona notizia è che ci sono ci sono da tempo e sono diffuse ed è personale molto esperto perché fa da tanto tempo ma magari man mano ci si allontana nelle valli piuttosto che in altre aree è chiaro che c'è una carenza è anche vero che se l'università si dovesse attivare per tempo a formare gli operatori a meno un approccio pagliativo di base diffuso a tutti i medici tutti i infermieri tutti i professionisti sanitari almeno questa parte base più semplice di controllo delle sofferenze potrebbe e dovrebbe essere attuato da chiunque non solo dal medico pagliativista all'infermiere pagliativista eccetera eccetera questo però è un percorso che è ancora da completare sicuramente in Italia come in altre nazioni ecco cosa sono le cure pagliative io penso che siano una grande opportunità per riscoprire un'antichissima logica della medicina che è quella di prendersi cura della persona malata e non solo quella di curare guarire la malattia ecco quindi la grande novità delle cure palliative che riporta le origini spesso il rinnovamento è un ritorno alle origini naturalmente opportunamente rivisto e quindi c'è una specie di spostamento di accenti la medicina la biomedicina che nasce nell'epoca moderna insieme alla rivoluzione scientifica nella logica di spostare il limite giustamente ogni scienza ogni tecnologia cerca di spostare il limite che ci viene imposto dalle situazioni in questo caso dal nostro corpo malato e la logica della medicina è sempre di andare oltre il limite di superare il limite le malattie che ci facevano morire un tempo la polmonite per un certo periodo non ci ha fatto più morire adesso rischiamo di morire di nuovo a causa della resistenza agli antibiotici ma va bene è un altro discorso e quindi la logica della medicina è questa le cure palliative gestiscono il limite in un altro modo invece di volerlo continuamente spostare superare e nell'immaginario anche sopprimere il transumanesimo il postumanesimo invece le cure palliative dicono questo limite va accettato fa parte della condizione umana è quello che è costitutivo del nostro essere e quindi invece di voler guarire a tutti i costi noi vogliamo come ha detto bene precedentemente dottor Orsi vogliono prendersi cura e trattare i sintomi sofferenza il dolore ma non solo tutti i sintomi che nella fase avanzata della malattia e anche prima si parla sempre più di cure palliative simultanee precedenti anticipate eccetera perché i sintomi vanno sempre trattati il che vuol dire che la medicina tende a dimenticarsi se noi dobbiamo dire che le cure palliative devono tornare e prendersi cura di tutte le dimensioni della persona che sono diverse non sono fisici organici ma sono anche emotivi relazionali e di senso la malattia è una crisi di senso com'è che io che sento il desiderio di vivere vengo confrontato e messo alla prova proprio su questo fatto di una malattia che alla fine mi conduce alla morte limite radicale e quindi le cure palliative cercano anche di fatto di porsi nei confronti della morte che è il limite radicale con cui noi siamo confrontati e che un limite che viene anticipato nelle vicende della nostra esistenza ma che lì trova un punto insormontabile si pongono in modo diverso rispetto alla morte un modo che tende a rendercela più familiare si parla spesso di una morte normale talvolta anche di una morte naturale con tutte le ambiguità di questo termine usato con le migliori intenzioni nel senso che naturale vuol dire che fa parte della nostra vita non si tratta di rimuoverla nasconderla oppure parlarne in un modo talmente esagerato e paradossale che comunque è sempre la morte degli altri come avviene nei film d'azione dove se non ci sono almeno 50 morti non c'è azione sembra che l'unica azione sia la sparatoria l'esplosione il disastro la calamità la catastrofe ma questo serve per allontanare la morte si parla della morte ma se ne parla in un modo talmente caricaturale che è una morte che non mi riguarda quindi e quindi le cure palliative parlando di morte naturale cercano di rintrodurla nel circuito ordinario dell'esistenza nel linguaggio perché è imbarazzante parlare della morte e quindi se ne può parlare perché è un fatto che riguarda la nostra condizione umana qual è il rischio? il rischio che si riduca la morte come naturale è un fatto biologico e l'essere umano non ha solo crisi glicemiche ma anche crisi affettive crisi emotive crisi di significato e quindi il rischio è quello di pensare la morte solo come la fine di un organismo vivente come tutti gli altri organismi animali ma nell'umano non è così noi abbiamo un rapporto con la morte più complesso non appiattito sulla biologia non lineare ma multidimensionale basta guardare il modo con cui noi ci prendiamo cura dei nostri morti una volta che sono morti e tutte le culture hanno un modo per rimanere in contatto o con la memoria o con pratiche di diversa natura che a noi stavolta sembrano strampalate ma che dicono e la morte ha anche una caratteristica di passaggio non è una caduta nel nulla perché rimane nella memoria rimane nella relazione rimane nella nella celebrazione delle ricorrenze nella raccoglie l'eredità gesto simbolico stasera c'è recalcati sull'eredità come gesto simbolico del passaggio dei padri ai figli è molto interessante ecco quindi è morte naturale bene ci intendiamo capire ma tutto non esiste come molto bene Luciano ha scritto in diversi articoli ma d'altra parte anche non è solo così è un fatto più complesso che ha a che fare con le culture ogni cultura ha un suo modo e che quindi va onorata va compresa e quindi va vissuta e va affrontata anche in medicina che è una parte delle pratiche sociali ma non il tutto gestita in modo corrispondente alla complessità del fenomeno ok grazie vogliamo spiegare bene in cosa consiste nell'ambito delle cure palliative la sedazione palliativa profonda che sovente viene confusa con una procedura che abbrevia la vita ok allora la sedazione palliativa si fa solitamente nelle fasi finali della vita quando ci sono sintomi soprattutto fisici ma anche psicoesistenziali che non rispondono più ai consueti trattamenti allora la buona notizia è che la gran parte dei sintomi vengono ben controllati fino alla fine basta usare bene i farmaci compresa la morfina di cui bisogna smettere di avere paura perché poi se il parente è opiofobico impedisce al malato di assumere la quantità giusta ecco quindi bisogna proprio distruggere questo mito che ormai non ha più ragione d'essere la morfina è un buon farmaco serve per togliere il dolore e togliere la fatica a respirare e va data quando c'è bisogno nei tempi nei modi nei dosaggi che c'è bisogno che ovviamente magari nella fase col progressione della malattia aumentano ma non bisogna spaventarsi però se è vero che la gran parte dei sintomi possono venire messi sotto controllo e quindi le sofferenze essere ridotte fino a quel punto in cui il malato le ritiene accettabili e il nostro invito è che è inutile patire è inutile avere le sofferenze nessuno ci guadagna neanche il malato da soffrire il malato sta molto meglio se non soffre e ovviamente soffre meno anche dal punto di vista psicologico sociale e spirituale se non ha una sofferenza fisica è pur vero però che in un percentuale relativamente bassa 10-15% dei casi nelle fasi molto finali molto avanzate di malattia ci sono alcuni sintomi come il dolore la difficoltà di respiro il delirium eccetera che non sono più controllabili anche da dosaggi elevati di farmaci e quindi l'alternativa è quella di ridurre la coscienza addormentando il malato o abolire la coscienza cioè addormentandolo profondamente in modo che non potendo controllare il sintomo la situazione della malattia controlli quella che è la ricezione della sofferenza la ricezione del dolore della dispnea eccetera che è a livello cerebrale e quindi il malato essendo addormentato non soffre più questo si chiama selezione palliativa la forma più nota di cui si è più parlato è quella profonda che è quella in cui il malato non risponde più ai contatti se chiamato eccetera eccetera è una situazione che va fatta va fatta per correttezza clinica va fatta per indicazione ontologica va fatta anche perché la legge 219 lo indica lo fatta va fatta perché c'è un supporto etico positivo che è quello di non soffrire quindi c'è una giustificazione etica forte purtroppo è una pratica poco nota se non all'interno del mondo delle cure palliative un po' della sese animazione un po' dell'oncologia ma è fatta quindi in modo insufficiente proprio perché è poco nota all'università la insegnano quasi mai perché non c'è un insegnamento di cure palliative la specialità è nata l'anno scorso quindi l'università deve fare dei passi accelerati sul campo delle cure palliative della comunicazione dell'etica peraltro e comunque appunto è una pratica che va fatta di più va fatta meglio perché ci sono sofferenze non trattabili in RSA piuttosto che a domicilio piuttosto che in ospedale piuttosto che in altri ambiti di cura una situazione palliativa ben fatta non accede alla morte anzi se proprio si vanno a vedere le differenze di sopravvivenza fra malati sedati e malati non sedati di solito non si vede differenze di sopravvivenza quando si vede differenze di sopravvivenza si scopre ma lo sapevamo già che i malati sedati durano un po' di più perché le energie residue possono essere mantenute perché non sono bruciate con la sofferenza e quindi è una pratica che anche dal punto di vista morale non ha più obiezioni ma peraltro non è mai avuta anche in visioni etiche molto vitalistiche molto rigorose con l'eutanasia suicidio assistito la selezione palliativa non ha niente a che spartire non va confusa anche se purtroppo la stampa e i mass media ciclicamente ci cadono dentro e sparando il titolo di testata l'apertura del telegiornale l'apertura del programma quelle robe orribili che si chiamano talk show eccetera eccetera la confusione viene fatta anche ad arte per alimentare il dibattito ecco è inutile dibattere su una cosa in cui non ci deve essere dibattito dibattiamo su robe su cui vale la pena dibattere ma non su una procedura clinica che ha una proprietà deontologica etica legale e quindi non si vede perché dobbiamo ancora parlarne bisogna farne di più e farla meglio questo sì penso che può essere utile parlarne per chiarirci e capire meglio di cosa si tratta e io vedo due equivoci fondamentali su cui vale la pena di soffermarsi e riflettere un attimo uno è quello che riguarda in modo più ampio il dolorismo c'è stata una tradizione appunto ostile all'uso degli analgesici perché veniva anche da una specie di matrice credente non rettamente intesa equivoca prendendo alcuni versetti della Bibbia o alcune espressioni della tradizione che sembravano celebrare il dolore come fatto redentivo il dolore redime per esempio Isaia dice dalle sue piaghe noi siamo stati guariti ma è un cortocircuito di linguaggio non dobbiamo mai prendere un versetto della Bibbia estrapolarlo dal contesto e poi appenderci una teoria che peraltro di solito è prefabbricata è lo stesso la tradizione quello che salva non è il dolore quello che salva è il dono di sé cioè il voler bene l'amore ora siccome quando non so se ne avete esperienza io voglio bene una persona può darsi che incontri anche delle difficoltà può darsi anche che incontri delle sofferenze delle fatiche va bene il dolore fa parte di ogni cammino relazionale che tende alla maturità al riconoscimento reciproco e alla assunzione di una differenza che non è sempre irenicamente gestibile ecco certo c'è sempre un conflitto in ogni relazione seria e quindi questo implica un passaggio che può essere doloroso faticoso ma non è quello che redime non è quello che salva quello che salva è il dono di sé è l'offerta della propria vita una logica di accoglienza e di benevolenza nei confronti degli altri che effettivamente implica anche delle rinunce ecco ma questa è secondaria è il corollario ecco primo punto quindi questo è molto importante e anche diciamo i documenti della magistero della chiesa hanno lavorato molto negli ultimi anni per disprovare a dissipare questo equivoco che ha provocato una certa diffidenza nei confronti degli analgesici degli opioidi eccetera che invece vengono visti di buon grado visti di buon grado al punto che già Pio XII negli anni 50 interpellato gli anestesisti che dice che gli hanno chiesto sì ma se noi sappiamo che a quei tempi esistava la morfina la morfina oltre a ridurre una serie di cose inibisce anche i centri respiratori a quei tempi la sua usava in modo meno raffinato per tutta una serie di gestione degli effetti collaterali di quanto non si faccia ora gli anestesisti dicono ma se noi prevediamo che questa persona morirà e tuttavia ha dolore e quindi per combattere il dolore dobbiamo aumentare le dosi e queste dosi più elevate perché bisogna ralzare eccetera eccetera sappiamo che prevediamo che morirà più in fretta possiamo lo stesso utilizzarla? risposta sì potete utilizzarla 1956 quindi questo principio va tenuto presente anche per quanto riguarda la sedazione palliativa in questo caso profonda e continuativa anche se ci sono altre forme di palliazione di sedazione che sono più reversibili meno intense insomma si può modulare in diversi modi e non è il caso perché come diceva dottor Orsi di solito chi è sedato in questo modo vive anche di più ma qualora anche vivesse di meno il principio che ci consegna la tradizione anche se argomentato in modi differenti è questo quello che si combatte è il dolore quindi niente a che vedere con l'eutanasia l'eutanasia ha un altro obiettivo che è quello di togliere la vita rapidamente certo per il motivo di togliere il dolore ma il risultato è togliere la vita e usa i farmaci altri in dosi in via di somministrazioni e in tipo di farmaci diversi quindi sono due cose differenti di cui dobbiamo tenere presente la diversità quindi dolorismo da una parte no e differenza dell'eutanasia dall'altra due equivoci che vanno dissipati bene talvolta le cose vengono presentate così da un lato ci sono le cure palliative che mi accompagnano tolgono il dolore eccetera eccetera ma che con le quali io devo vivere il mio declino io invece non voglio vivere il mio declino e quindi voglio anticipare la mia morte quindi voglio scegliere non le cure palliative ma il suicidio assistito piuttosto che non una dimensione eutanasica allora a me personalmente questo out out mi sembra appunto molto semplificatorio non mi sembra che veda la concretezza dell'esperienza di malattia e vi chiederei un po' di commentarlo innanzitutto direi due cose come abbiamo già ascoltato abbiamo delle leggi che riguardano il fine vita che sono ampiamente disattese c'è la legge 38 del 2010 che riguarda la terapia del dolore che ha a che fare con le cure palliative abbiamo appena sentito anche che è applicata solo in parte quindi si parla delle cure palliative ma non se ne ha l'esperienza non si ha la possibilità di viverle effettivamente secondo punto è la disposizione anticipata di trattamento meno dell'uno per cento le hanno redatte è una legge del 2017 quindi ormai a sei anni cosa vuol dire cosa vorrei dire sì forse è laborioso farla sì però può anche dire forse non è che proprio abbiamo tanto voglia parliamo della morte o immaginiamo cosa potrebbe succedere quando moriamo con facilità ci è difficile siamo è impegnativo è un argomento che cerchiamo di rimuovere che non vogliamo assumere non vogliamo affrontare ci sono degli strumenti già disponibili è possibile sospendere e utilizzare l'analgesia o la sedazione è possibile anche si dovrebbe fare un discorso anche sulla scopi della medicina cioè cosa la medicina è chiamata a fare o a non fare perché ha una certa tendenza a trattare soprattutto da noi in occidente in un modo piuttosto intenso se non intensivo allora la mia sensazione è dire bene per parlare di queste cose forse varrebbe la pena che come comunità sociale noi proviamo a praticare e a utilizzare quegli strumenti che sono a nostra disposizione prima di lanciarci in un ulteriore capitolo che è irto di difficoltà quali sono le difficoltà che vedo le difficoltà che vedo è che togliere toglie dunque farei una distinzione anche se è teorica tra suicidio assistito e assistenza al suicidio e eutanasia nell'assistenza al suicidio l'intervento di un altro è necessario ma non sufficiente nel senso che poi è il soggetto stesso che deve autosomministrarsi il farmaco letale nell'eutanasia invece ci vuole l'intervenzione di un terzo che è necessario e sufficiente tutto viene operato da una terza persona allora il fatto di regolamentare il togliersi la vita o il farsi togliere la vita nella modalità di assistenza a suicidio di eutanasia è un fatto problematico dal mio punto di vista perché perché come si è detto molto bene a proposito dell'autodeterminazione l'autodeterminazione non è mai astratta è sempre una libertà in situazione e noi sappiamo quanto la libertà nostra è funzione del clima sociale che viviamo quanto accade delle nostre scelte sotto l'influenza degli altri anche se cerchiamo spesso di non di andare oltre di evitarlo quindi io parlo a questo proposito di autonomia sempre concreta in situazione concreta e sempre relazionale nel senso che le mie scelte hanno non solo una ricaduta sugli altri ma le scelte degli altri hanno una ricaduta su di me allora in una società in cui c'è una forte pressione sociale di tipo economico in cui non si sono ancora sperimentate delle vie che possano aiutare a gestire la fine della vita in un modo più umanizzante passare subito all'idea va bene ma io la faccio finita subito mi sembra che sia un cortocircuito mi sembra che in nome dell'autodeterminazione riuscita di alcuni che hanno la possibilità di esercitarle effettivamente e sono una minoranza anzi teoricamente anche direi che è impossibile ma non vorrei addentrarmi in un dibattito filosofico sullo statuto della libertà se volete possiamo parlare molti altri ne saranno condizionati e sentendo lo sguardo dell'altro che dice certo adesso è possibile per te fare il suicidio assistito o poi è possibile per te chiedere l'eutanasia sentendosi un peso per gli altri rischiano di rimanere appesantiti e condizionati nelle loro scelte in questa linea è un po' quello che in etica si chiama il conseguenzialismo della norma cioè ci sono delle norme che hanno un impatto complessivo sulla vita sociale che toccano degli interdetti fondamentali come quello di non togliere la vita ad altri la differenza sarebbe lasciare che la morte accada quando sospendi i trattamenti e usi la via delle cure palliative ecco ma togliere la vita è un interdetto fondamentale che va custodito anche nelle aree grigie di fragilità perché ci espone ad una serie di derive che alla fine rischiano di toccare qualcosa che riguarda la dignità di ciascuno e il modo con cui interagiamo come persone che si prendono cura di noi degli altri che sono affidati gli uni agli altri anche nei momenti di maggiore debolezza e fragilità anzi forse proprio in quei momenti che vuol dire naturalmente rispettare le volontà sospendere usare le terapie del dolore ecco quindi io sarei piuttosto in questa linea detto questo la situazione giuridica in Italia ha fatto sì che ci sia una sentenza della Corte Costituzionale numero 242 del 2019 che ha reso possibile non ha stabilito un diritto all'assistenza al suicidio ha stabilito il diritto di chiederlo in certe specifiche condizioni quando c'è trattamento di sostegno vitale quando c'è una sofferenza fisica o psicologica intrattabile quando c'è una situazione patologica irreversibile e quando c'è la competenza nel capire e dare il consenso questo garantisce che sia un suicidio e non un'eutanasia perché se non sono competente non posso neanche somministrarmi il farmaco essendo questa la sentenza della Corte Costituzionale e avendo la Corte Costituzionale chiesto al Parlamento di legiferare io mi sono detto in una società pluralistica e democratica forse una legge che in qualche modo rispecchia il profilo della depenalizzazione dell'assistenza al suicidio così come è descritto dalla Corte Costituzionale può essere ammissibile non tutti devono usarla però facendo questo tra l'altro su una rivista abbastanza riconosciuta nel mondo cattolico e che ha l'approvazione della Segreteria di Stato si chiama Civiltà Cattolica ha suscitato un certo dibattito anche nel mondo cattolico però mi sono detto noi facendo una distinzione proprio tra togliermi la vita va bene capisco che a queste condizioni può essere una via che io non praticherei però capisco che in una società appunto pluralista e democratica la valutazione etica della legge non può limitarsi al contenuto delle singole norme ma deve prendere in considerazione il significato che la legge ha in ordine alla coesione sociale e al bene comune che è rappresentato da diverse opinioni in una modalità plurale e quindi forse pur non condivendo io il singolo articolo però condivido l'idea che possa esserci una legge di questo tipo Gian allora fatte le distinzioni che abbiamo fatto finora ma che ribadisco perché penso la confusione purtroppo è diffusa fra le cure palliative che hanno quegli obiettivi la sedazione palliativa che ha quegli obiettivi la sospensione di trattamenti che è malato rifiuto che diventano sproporzionati queste tre fattispecie con suicidio assistito e eutanasia non c'entrano niente affrontando il capitolo della domanda suicidio assistito eutanasia quindi perché si chiama morte medicalmente assistita la mia opinione è questa anche se è vero che le cure palliative riescono a controllare gran parte della sofferenza e che comunque se non riesce a controllare le fasi finali c'è la sedazione palliativa c'è comunque una quota di malati che non tanto per sofferenze fisiche ma per volontà di non fare il percorso finale della vita ultime settimane ultimi mesi rifiutano le cure palliative o comunque le fanno fino a un certo punto poi dicono io da qui in poi non voglio più andare avanti anche se voi siete in grado di coprirmi le sofferenze di accompagnarmi non lasciarmi solo lavorare sulla comunicazione con i familiari eccetera eccetera non risulta per me sensato non c'è un senso non ha un significato non c'è una dignità a fare quest'ultimo percorso di vita io fin qui ci sono arrivato ma oltre non voglio andarci a questa risposta è chiaro che le cure palliative non possono dare non ha una risposta e quindi se si vanno a vedere anche le recenti più le statistiche più recenti è quello il motivo per cui in paesi in cui c'è una legge sull'eutanasia suicidio assistito entrambe c'è questa richiesta e questo pone alla società e alla medicina un grande interrogativo perché da un lato a mio parere non si possono ignorare queste richieste dei malati dall'altro è vero che le cure palliative non sono sufficientemente diffuse e quindi vanno potenziate o c'è il rischio che i malati finiscono per chiederti la morte medicalmente assistita senza aver avuto un'offerta o una pratica serie di cure palliative e questo va evitato però è anche vero che immaginando che prima o poi arriveremmo a una buona copertura di cure palliative in tutta la nazione piuttosto che ci sia una seria offerta o pratica di cure palliative ai pazienti che ne fanno richiesto di accelerare la propria morte questo non risolve un nucleo di pazienti pochi perché la stragrande maggioranza dei pazienti se non soffre vuol vedere sposare la figlia la cresima del nipotino vuol morire a casa sua fare le sue cose di fine vita salutare chiudere eccetera eccetera questo va bene per la stragrande maggioranza dei pazienti ma c'è una piccola quota 3, 4, 5% di pazienti assistiti in cura operativa o comunque in fine vita che dice ho capito che non mi fate soffrire ma da qui in poi io non voglio più andare avanti a questa risposta è chiaro che la medicina e la società devono dare una risposta che mette in crisi la medicina che da sempre ha lavorato per prolungare e conservare la vita e che deve fare il salto di indurre la morte che è un salto come potete immaginare radicale ok e dall'altro la società che deve consentire questa attuazione però con delle garanzie molto alte perché se c'è il rischio che qualcuno chieda la morte medicamente assistita perché solo perché i familiari o a condizioni economiche svantaggiose perché i familiari fanno pressione eccetera sarebbe un disastro per la società sarebbe un disastro per la persona quindi è chiaro che un percorso che è il mio modo di vedere personale non può non essere fatto e dovremmo farlo basta guardarsi intorno non perché dobbiamo copiare altre nazioni però Spagna Francia ci sta arrivando non faccio l'elenco di tutti il nord Europa il nord America l'Australia eccetera eccetera vuol dire che l'Australia sta andando lì anche come reazione a una medicina che negli ultimi secoli e mezzo è diventata molto potente il che va bene perché ha permesso di allungare sopravvivenza di vivere meglio le fasi finali eccetera eccetera però crea anche delle situazioni di gravi patologie che allignano la parte finale perché purtroppo la medicina gli anni di vita non li ha giunti fra 40 e 50 gli ha giunti 60, 70, 80, 90 quindi è chiaro che lì ci sono delle condizioni in cui l'individuo in questo nuovo scenario che però è diventato di tutti i giorni può dire beh io in quelle condizioni non voglio finirci punto e quindi è un passaggio di grande delicatezza che secondo me dobbiamo presidiare con grande serietà prima di tutto non facendo confusione due offrendo tutte le alternative possibili tre verificando che davvero poi quella richiesta sia il più libera e consapevole possibile dopodiché però tirarsi indietro è ugualmente pesante che fare perché anche tirarsi indietro e dire no ti lascio solo no non do risposta a tua domanda a mio modo di vedere non è più leggero del farlo ecco e questo sarà un peso una complessità da dipanare più o meno fra poco perché di fatto prima o poi il Parlamento dovrà rispondere alla Corte Costituzionale di Grazie a tutti